Tra l'altro sei riuscito anche a fare il mio viaggio a New York in più lingue, più mercati. Spiegami come funziona questa parte di internazionalizzazione, lato tuo. Allora, parliamo di quello spagnolo. Io parlo spagnolo, ho vissuto Venezuela diversi anni, quasi cinque anni, e ho una ragazza che di fatti traduce tutto ciò che faccio in spagnolo, i video, ci mette i sottotitoli. La community è andata benissimo, adesso siamo a quasi un milione su Facebook. Gli argentini mi adorano come se fossi Raffaella Carrà. Mi fermano argentini e messi, alcuni paesi mi adorano proprio, Argentina e Messico, sì. I video vanno benissimi anche là e sono ottimi clienti, per noi è importante differenziare, insomma. E tu hai fatto, per andare su quel mercato in lingua spagnola, hai fatto qualcosa di particolare, oltre a fare una pagina Facebook dedicata che fa solo quello, come ti sei organizzato? Beh, ho un team diverso, fatto da un esperto di marketing per le campagne, una social media manager che si occupa di, appunto, tradurre le cose. Ho differenziato il team, ho cercato di non confondere troppo il team italiano col team spagnolo, perché le logiche sono diverse. Poi, insomma, abbiamo parlato anche l'altra volta, io credo che sia un progetto replicabile ovunque. Se un ragazzo iniziasse a Roma a fare video, parlando anche male in inglese, sicuramente inizieranno degli americani a scrivergli, vengo a Roma, cosa mi consigli. Per me è un progetto replicabile. È interessante, anche l'altra volta mi hai fatto notare questa cosa e mi ha lasciato perplesso, perché per me il successo dell'iniziativa è molto legato a te, al tuo modo di rapportarti, alle tue caratteristiche. Invece tu dicevi, ma no, in realtà può essere, appunto, fatto in altri posti, a prescindere da me. Pensi davvero che sia così? Nel senso, hai la dimostrazione che effettivamente è così? Sì, però, perché sul mercato tedesco c'è un ragazzo che si chiama Sanel, che fa le stesse cose che faccio io, non ha i numeri social che ho io, però comunque a livello di fatturato funziona, è quasi simile a quello italiano, non proprio a quei livelli, però diciamo sarà un 30% in meno, però con potenzialità di espansione molto superiori, perché è un mercato più ricco di quello italiano, ovviamente. Quindi ho la prova che il modello di per sé funziona. Nel mio caso è diverso, perché sono riuscito anche a creare, non è solo il tour operator, ma c'è anche il mio personaggio, che sono riuscito a creare, in quell'altro caso non è così. Infatti, ripeto, se sto qui in questo colloquio con te, anche per questa ragione, al di là del tuo priveto. Chiaro, chiaro. Sì, sì, sei riuscito a creare il tuo personal brand, un po' come Gary V, che è a New York. Cioè, il suo personal brand e la sua azienda sono due filoni diversi, ma che si aiutano l'un l'altro.